Che ci combina sto bitcoin? Che ci combina? Sale, scende, che combina? Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua! Dai metti il piede là dove c'è quella sporgenza! Ben ritrovato nella nostra analisi del lunedì. Oggi una puntata bella piena, ci sono un po' di cose da andare ad analizzare, in realtà il lato grafico non è che sia cambiato chissà cosa, ma tra poco lo vedremo, però ci sono un po' di punti da chiarire, un po' di questioni da comprendere relativamente a quello che può essere un movimento di prezzo su bitcoin nel breve e nel medio termine, quindi diciamo fino alla fine di quest'anno. E direi di partire con quello che è il sentiment del mercato, no? Quindi con quelle che sono le risposte ai vari sondaggi che sto facendo sul canale perché ci aiutano a comprendere effettivamente qual è un po' il sentimento generale. È una cosa sicuramente da non sottovalutare. Vediamo per esempio sei giorni fa, ho chiesto quale potesse essere un probabile target per bitcoin entro la fine dell'anno, ho dato come possibili soluzioni 80k, 100k, 200k, più di 300k, questi sono target a rialzo, in realtà farò un altro sondaggio con target a ribasso. In questo modo abbiamo uno specchio più completo perché effettivamente poi nei commenti qualcuno ha scritto dei target più bassi, quindi dobbiamo andare a comprendere anche quello. Purtroppo YouTube mi permette di mettere solo quattro soluzioni, quindi ho preso quelle che attualmente sono più guardate dal mercato. Personalmente, come sapete, chi mi segue qua sul canale lo sa, è da più di un anno che ho come target gli 80k, come target prudenziale. 100k può esserci nel momento in cui c'è qualche effettivamente allineamento dei pianeti, tutte le cose varie, però vediamo, nessuno può dire, effettivamente un 54% propende per lo più sugli 80k, un 39% sui 100k e poi un 3% sui 200 e un 3% sui 300. Questi due tenderei ad escluderli come potenziale target perché significherebbe veramente un bump enorme. Questi hanno già più senso, in particolare il primo. Ottimo, vuol dire che c'è consapevolezza del mercato, almeno nelle persone che mi seguono e questo è molto molto interessante. Poi ho fatto anche altri post, altri sondaggi, anche per capire come si era posizionati. Vediamo qua che un 59% ha in portafoglio solo cripto, un 5% solo azioni, un 26% equilibrato tra azioni e cripto e poi un 10% prevalentemente in obbligazioni. Quindi molto spalmato, un 59%, chiaramente quelli che mi seguono, è full cripto. Io sono personalmente equilibrato tra azioni e cripto dove in realtà sono un pochino equilibrato sull'ecripto rispetto le azioni in questa fase. Passiamo a questo punto al nostro grafico per capire un po' che diamine sta succedendo. Ed eccoci qua sul nostro grafico, andiamolo a ingrandire. Qua siamo su BingX, uno degli exchange che utilizzo e a proposito ti ricordo che ci sono due promo. Una per chi è già iscritto a BingX e una per chi non è ancora iscritto a BingX. Utilizzando infatti i link che ti lascio qua sotto dove c'è anche tutta descritta l'offerta per un caso e per l'altro, per chi non è ancora registrato ci sono premi fino a 5.000 dollari. Dollari dati in bonus, USDT bonus, che possono essere utilizzati per far trading. Quindi non sono prelevabili, però si possono utilizzare per aprire posizioni. Se si perde, si perde il bonus. Se si vince, invece si vincono soldi che poi possono essere prelevati. Quindi sicuramente molto interessante. Per chi invece è già registrato, ci sono dei bonus che si accumulano fino a 9.000 dollari. Ancora una volta, sono bonus non prelevabili, utilizzabili per fare trading. I profitti si possono prelevare, il bonus chiaramente no. Entrambi i bonus vengono assegnati a seconda degli step che andiamo a completare. Esempio, mi registro, deposito 100 dollari, ricevo 50 dollari di bonus. Oppure, se ho già registrato, deposito 500 dollari, ricevo 50 dollari di bonus. Poi faccio trading per un tot di volume, ricevo altri bonus. A seconda delle task che andiamo a completare, ci sono dei bonus. Però è tutto spiegato, c'è una tabella, io qua sotto ti lascio due link, ti basta guardarli. Ne lascio uno per chi è già registrato e uno per chi non è già registrato. A seconda della tua categoria, vai a selezionare quel link e ti spiega poi tutto passo passo come funziona e come vengono assegnati i bonus. Quindi qua sotto il link, ricordati di usare ovviamente il mio codice, altrimenti non avrai il bonus. E ringrazio anche BingX per aver riservato questa promo alla nostra community. Torniamo al nostro grafico. Vediamo un bitcoin relativamente laterale. Ormai da un po' di tempo vediamo che si muove all'interno di questo range. Più che massimi sta facendo fatica, quindi continua diciamo a oscillare in un range che va tra i 60-62k a rialzo e a ribasso intorno ai 52k, quindi con qualche, vediamo, calo più importante. Riassorbito per carità, però comunque in quest'area qui. Quindi tendenzialmente si sta intorno ai 54-55-60k come target attuale, quindi una bella lateralizzazione stretta in quest'area. Sta facendo proprio fatica bitcoin a rompere e salire, tornare almeno a testare i 70k. Però c'è tempo ragazzi, perché dico che c'è tempo? Inizierà ad arrivare molta più liquidità. Infatti a partire da settembre partirà il buyback program degli USA, quindi andranno a di fatto iniettare liquidità sul mercato. E questa liquidità potrebbe confluire anche in quest'area. Ora chiaramente rimane tutto invariato come abbiamo detto fino adesso. Se regge quest'area, ottimo. Lateralizza, si può pensare ad un potenziale accumulo. Anzi, tra l'altro, diverse whale in queste aree stanno proprio accumulando, quindi bisogna fare attenzione a queste aree. Un ribasso ci proietta, come abbiamo già detto, ma mille volte, è inutile che mi ripeta, a livello più basso. Un rialzo invece ci riporterebbe a testare i 70k, potenzialmente posizionarci per raggiungere il nostro target di 80k. Quando, come, perché? Io presumo, presumo verso ottobre-novembre, quindi a ridosso delle elezioni. Un po' perché ottobre-novembre sono sempre stati mesi abbastanza interessanti per i mercati. Un po' perché ci sono le elezioni di mezzo, quindi una concatenazione di fattori, taglio dei tassi di interesse, liquidità in entrata. E lezioni, per me questo è un trittico da bull, da spingere in su il prezzo in quest'area. Bisogna vedere anche come si comporterà il compartimento azionario. E a proposito del compartimento azionario andiamo a dare un'occhiata. Ed ecco qua la situazione attuale sull'SP500, che utilizziamo un po' come metro di giudizio, come metro di paragone sul mercato. Vediamo che in realtà SP500 sta stampando continuamente nuovi massimi. Mentre Bitcoin, andiamolo magari ad aggiungere, vediamo in realtà Bitcoin, eccolo qua, che in realtà sta andando al contrario, no? Allora cancelliamo un po'. Vediamo la global liquidity che sta tendendo a salire e di conseguenza i mercati si sono un po' ripresi. Hanno fatto, dopo quello scivolone dell'altro giorno, si sono ripresi. Bitcoin di fatto non ha siglato nuovi massimi, quindi non ha spinto su ulteriormente, anzi sta lateralizzando un po' a ribasso. Mentre l'SP500 sta continuando a salire. Quindi in questo momento sta performando meglio il mercato azionario USA piuttosto che Bitcoin. Vediamo anche qui per i fan della non correlazione che obiettivamente quando il mercato USA sale, tendenzialmente anche Bitcoin sale. Quando il mercato USA scende, tendenzialmente anche Bitcoin scende. Di nuovo SP500 ritraccia, Bitcoin ritraccia e così via. Tendenzialmente funziona così. Ora in questa fase non sta funzionando così. C'è una sorta di decorrelazione in corso tra Bitcoin e SP500. Nel senso che SP500 sta salendo e Bitcoin invece sta scendendo barra lateralizzando. Quindi si sta prendendo più tempo. Ma come? Perché succede questo? Dobbiamo tenere in considerazione il grande peso che ha il mercato degli Stati Uniti sul mondo come prima cosa. Come seconda cosa dobbiamo tener conto della situazione attuale. In una situazione relativamente dubbia perché siamo sull'orlo di una recessione, 2025 per me sarà un anno recessivo, poi vedremo. Però comunque sia c'è un po' questo sentiment sul mercato, c'è un po' paura. Nonostante ciò si è positivi perché taglio dei tassi d'interesse, il buyback a settembre, elezioni, tutta una serie di fattori che fanno essere sicuramente positivi per quello che è il mercato. Però i capitali dove confluiscono? Confluiscono su un SP500 o comunque sia un mercato azionario o confluiscono su Bitcoin che è considerato estremamente volatile. In una fase di panico se vogliamo in cui non si sa bene dove andare, come muoversi, come evolveranno le cose, le persone preferiscono andare su un qualcosa di meno volatile ma che sta comunque performando piuttosto che in un qualcosa di volatile e che si ha poi paura che da qui anziché fare questo faccia questo e mi ritrovo di nuovo ai minimi. Cioè questa è la paura attualmente che va a rallentare un po' di persone ma è un po' la paura che si ha anche, no, senza andare a guardare in grande. Guardiamo noi stessi, anche te, immagina ora di voler entrare su Bitcoin, ti chiedi è un buon momento per entrare ora, devo aspettare che ritracci ancora, devo aspettare che vada su. Quindi c'è un po' di panico, c'è un po' di incertezza più che panico e questo è comprensibile, assolutamente normale nel mercato dei capitali. Poi del valore di Bitcoin, che cosa rappresenti, tutte queste cose qui e a parte, io qua parlo esclusivamente, visto che stiamo facendo un'analisi fondamentale se vogliamo, dei movimenti di Bitcoin, dei prezzi di Bitcoin, dobbiamo comprendere quali sono le dinamiche che entrano in gioco, lato mentalità dell'investitore che si va a posizionare. E poi di nuovo, Bitcoin non c'entra nulla con il mercato, con l'SP500, non è correlato e tutto. È vero che adesso si sta staccando un pochino, però è anche vero che tendenzialmente, qua siamo su un grafico mensile, insomma è lampante, no? Uno scende, l'altro scende, uno sale, l'altro sale, uno scende, uno scende, l'altro sale, l'altro sale, fan così. Sì, questo è Bitcoin, ma poi banalmente siamo tutti sempre con gli occhi puntati su quelli che sono i dati dell'inflazione USA e tutte queste robe qui. Ovviamente, ovviamente, se siamo tutti con gli occhi puntati qui, anche per quello che riguarda Bitcoin, come facciamo a dire che non è correlato all'azionario? Ha una correlazione importante attualmente, perché parliamo sempre di asset a rischio, no? Quindi dobbiamo fare sicuramente attenzione a questa correlazione e analizzare l'SP500 per comprendere dove potenzialmente possiamo muoverci su Bitcoin. Ora, se l'SP500 ci ritraccia, molto probabilmente Bitcoin continuerà a seguirlo, quindi andrà a ritracciare. Viceversa, se lateralizza Bitcoin si mantiene, secondo me, in quest'area. Se inizia a stampare nuovi massimi, lì Bitcoin inizia a salire. Anche in questo caso dobbiamo contestualizzare il tutto. E ricordiamoci una cosa importante. Ricordiamoci che gli USA sono ancora oggi una potenza. Una grande parte del mining di Bitcoin è negli Stati Uniti. Quindi comprendiamo che se una grande parte della produzione di Bitcoin è negli Stati Uniti, qualche correlazione ci deve essere tra Bitcoin e gli Stati Uniti, no? In ottica se non altro di denaro. E impariamo ancora una volta che, ripeto, Bitcoin rappresenta un sacco di belle cose, ma in ottica di soldi, di investimento, bisogna comprendere come fluiscono i soldi. Ora, Bitcoin, con la sua capitalizzazione 2.5-3 trilioni, quello che è, è sicuramente un asset con un certo peso. Ed è in quest'ottica che dobbiamo considerare anche questa cosa qui. Cioè il valore dello stock market. Parliamo di 109 trillions globali. E parliamo di una suddivisione, quindi un peso per Stato sui mercati relativamente sbilanciato, direi. Perché abbiamo gli USA in testa, attualmente, con una market cap di 46.2 trillions. Parliamo di un 42.5% del mercato. È ovvio che si guardi verso il mercato USA. E questo è il motivo per cui guardiamo il mercato USA per vedere determinati movimenti. Perché i capitali in gioco sui mercati USA sono molto più alti rispetto a tutti quelli del resto del mondo. Cioè parliamo gli USA da sé, una capitalizzazione del 42.5% dell'intero mercato azionario. È lì che c'è il fulcro dei capitali, così come è lì che c'è il fulcro del benessere. Di conseguenza, ciò si rispecchia anche su Bitcoin, che diventa, tra virgolette, dipendente da questa cosa. Dico tra virgolette perché ci vogliono molte virgolette in questa affermazione. Però questo è. L'Unione Europea seconda con un 11%, la Cina subito dietro a un 10,6% e secondo me qua scala. Poi c'è il Giappone, Hong Kong, UK, Canada, Australia, Singapore e poi il resto dei mercati sviluppati e emergenti. Quindi sostanzialmente il gioco è qui. L'Unione Europea che cosa fa? Sta facendo politiche estremamente strette su Bitcoin e il mondo cripto. Questo porterà sicuramente fuga di capitali verso invece player che sono disposti ad accogliere e accogliere bene. E questo sicuramente porta dei buoni movimenti. Detto ciò, finché la situazione è questa, ripeto, secondo me la Cina andrà a sorpassare nel tempo, a ribaltare le sorti. Però parliamo di anni, quindi gli USA ancora per un po' rimarranno lì dove sono, a meno che non ci sia qualche guerra particolare. Però questa è la situazione. Dobbiamo guardare per forza di cose, avere gli occhi per forza di cose a come sta andando l'economia statunitense. Perché a seconda di come va l'economia statunitense entreranno capitali. Cioè quando la Fed tira giù i tassi di interesse e li ha tirati giù abbastanza, e lì si inizia a vedere liquidità che entra. E liquidità che entra porta tutti i mercati inevitabilmente a salire. Però se gli Stati Uniti mi vanno in recessione, quindi rallentano, il contraccolpo arriva anche qui sui nostri mercati. Ma a maggior ragione sui mercati estremamente volatili come Bitcoin. Quindi dobbiamo tenere in considerazione questi fattori qua. Quando andiamo ad analizzare al di là del prezzo, ha rotto il supporto, ha rotto la resistenza, no, graficamente se vogliamo, ma teniamo sempre in estrema considerazione quella che è un'analisi fondamentale. E ciò che comporta questa analisi fondamentale. Perché in una situazione come quella attuale di mercato dove c'è incertezza, l'incertezza si traduce sul grafico con ribassi o, nella migliore delle ipotesi come stiamo affrontando adesso, lateralizzazioni. Quindi un mercato sostanzialmente flat che non sa se andare su o andare giù. Questa è la situazione attuale. Ripeto, personalmente, penso che fino a novembre, fino alle elezioni, il mercato tenderà a ripartire, a riprendersi. Parlo di mercato cripto in correlazione al mercato azionario che in realtà si sta già un po' riprendendo dallo scossone dell'altra volta. Penso che a questo punto seguirà anche il mercato cripto per forza di cose. Target mio personale sugli 80k per bitcoin è mio personale. Quindi fai le tue analisi, fai le tue cose. Personalmente io in fase elezioni vedrò come sarà un po' il sentiment. Cercherò di capire, leggere i dati, capire se effettivamente si entra o meno in recessione. E in base a quello andrò a modulare il mio portafoglio. Molto probabilmente scaricherò le altcoin e una parte di bitcoin probabilmente anche. Vedremo un po' come mi muoverò. Però fino adesso e per adesso non ho cambiato nulla. Ho ancora il mio piano d'accumulativo. Mi sto tenendo fermo. Quando ci sono quei cali interessanti intorno ai 50k o comunque dai 55k in giù, vado a riaccumulare qualcosina al lato bitcoin. Lato altcoin non le tocco, a meno che bitcoin non mi scenda sotto i 50k. Quindi quando mi va a fare magari quei ripescaggi sui 48, 47, 49k, allora inizio a prendere anche qualche altcoin. Perché? Perché è estremamente scontata. E quindi una volta che mi fa un pump di nuovo in su, vado a riposizionare e riequilibrare il portafoglio. Questo è quello che sto facendo in questa fase. Quindi bitcoin è effettivamente così come l'intero mercato globale in parte collegato a quello USA perché ne risente del suo peso percentuale a livello di flusso di denaro sull'intero mercato. E quindi non possiamo fare altro che guardare come evolvono le cose, continuare ad analizzare i fondamentali, lasciar perdere per un po' i grafici e l'analisi ciclica perché come vediamo si è un po' rotta in queste fasi e tutto quello che rimane da fare è aspettare sicuramente con pazienza. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, ti ricordo ti lascio il link di Bing X se vuoi accedere alle promo. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti i nostri spettatori e ci vediamo nel prossimo video.